Deve marcire in carcere, ha ucciso nostra figlia a 17 anni e non merita perdono. Ci auguriamo che venga condannato al massimo della pena, nonostante le leggi nel nostro paese sono a suo favore. A parlare sono Gianluca Causo e Daniela Bertoneri, genitori di Michelle Maria Causo, uccisa da un coetaneo d'origine cingalesi nel giugno scorso a Prima Valle, chiuse in un sacco e lasciate in un carrello della spesa abbandonato accanto ai rifiuti. Il prossimo 5 luglio scadono i termini di custodia cautelare per il ragazzo sotto processo ed è tenuto ora nel carcere minorile di Treviso, accusato d'omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadavere. Ieri è comparso in aula al Tribunale dei minorenni per la prima udienza del processo. Reo Confesso ha chiesto il rito abbreviato. Subito il primo colpo di scena. I giudici hanno disposto la perizia psichiatrica per accertare se giorno dell'omicidio della studentessa nell'abitazione della madre del giovane quest'ultimo fosse capace di intendere e di volere. La prossima udienza è stata fissata per il 28 febbraio, quando il professore Stefano Ferracuti riceverà l'incarico. Lo psichiatra dovrà stabilire se il 17enne, sotto effetto di sostanze stupefacenti, fosse semi-infermo di mente. Il ragazzo ieri in aula è apparso tranquillo, anche distaccato, non ha rilasciato dichiarazioni e non si è mai voltato verso i genitori della vittima che erano presenti all'udienza.